Noi pensavamo che giocassi in mezzo e invece mi sentavessi un interno. Sì, io avevo detto anche in inizio dell'anno posso ricoprire sia il ruolo di mediano che da mezz'alla, mi trovo bene in entrambe le posizioni, che sia mediano che mezz'alla è importante comunque farsi trovare pronti. Io adesso non ricordo bene, se hai avuto una grande occasione tu, una buona conclusione oppure un assist importante. Sì, era un assist, si è stato uno per Paghera e uno per Guido Manilungo. Quando Paghera ci cadono il pallone. Esattamente, esattamente. E niente, sono veramente contento e adesso devo solo continuare così, continuare a lavorare e andare avanti. Inizio, non è un po' stanco. Sì, sì, c'era anche il campo un po' pesante e comunque sì, ho fatto anche mercoledì giocato, quindi magari può essere un po' che mi manca un po' il ritmo partita e questo magari un po' alla lunga l'ho accusato, però fisicamente penso di stare bene. Continua da star dietro la Regina sperando, insomma voi sperate che chiaramente faccia un passo falso per ora, la squadra Maranto per ora sta andando molto bene. Sì, la Regina sta facendo un campionato straordinario, noi anche, perché comunque vincere qui, abbiamo vinto veramente tante partite, dobbiamo aspettare e vedere nel momento in cui loro faranno, perché credo che prima o poi un passo falso lo faranno, la reazione che avranno da lì in poi. Noi dobbiamo comunque pensare a noi stessi e stare il più attaccati possibili, perché non possiamo farli andare via assolutamente. Grazie.